Putin starebbe preparando un test nucleare al confine con l'Ucraina. E' questa l'ultima indiscrezione del Times che sta facendo il giro del web. Se fosse vero, e speriamo non lo sia, è molto probabile che sarebbe utilizzata una bomba atomica tattica. Ma che cos'è una bomba atomica tattica e qual è la differenza con una bomba atomica tradizionale? Ciao, io sono Alessandro Beloglio e in questo video capiamo che cos'è una bomba atomica tattica e come mai esiste la possibilità che la Russia possa lanciarne una durante la guerra in Ucraina. Ragazzi, il milione di iscritti è in vista. Più siamo, più possiamo fare video pazzeschi e in real time praticamente come questo. Se siete già iscritti vi ringraziamo tantissimo. Se invece ancora non lo siete, beh, iscrivetevi e salite a bordo. Il nostro lavoro dipende un sacco anche da questo. Grazie. Nelle ultime ore il Times ha rilasciato un'indiscrezione secondo cui Mosca starebbe preparando un test nucleare al confine con l'Ucraina. Al momento si tratta appunto di un'indiscrezione, quindi rimane difficile, speriamo, che Mosca lanci davvero un ordigno. È un'ipotesi e la maggior parte degli analisti sostiene ancora che l'uso dell'arma atomica sia più che altro una minaccia di Putin per fare pressione sull'Ucraina e sugli Stati Uniti. Però non stiamo parlando di uno scenario impossibile. Nelle scorse settimane, infatti, l'Ucraina ha recuperato terreno e Putin è stato costretto a dichiarare una mobilitazione militare parziale. Cosa vuol dire? Che la Russia sta arruolando in modo forzato centinaia di migliaia di russi da mandare al fronte. Questa mobilitazione però avrà bisogno di tempo per essere realizzata. Quindi se nel frattempo le cose si mettessero male e sempre peggio per la Russia, Putin potrebbe decidere davvero di lanciare una o più bombe atomiche come soluzione per rallentare l'avanzata Ucraina o per evitare una sconfitta oppure addirittura per portarla alla resa. Ora, la Russia è il paese col maggior numero di armi atomiche al mondo. Si stima infatti che ne abbia circa 6.000, di cui un quarto pronto all'uso, almeno in teoria. Ma quando Putin parla di bomba atomica, a quale arma esattamente si riferisce? Molto probabilmente a una cosiddetta bomba atomica tattica. Per capire di cosa stiamo parlando, dobbiamo distinguere tra armi atomiche strategiche e armi atomiche tattiche. Vabbè, aspetta Ale, ma come funziona una bomba atomica? Allora, in questo video non ne parliamo, però se vi interessa il funzionamento, per spiegarlo abbiamo addirittura realizzato i modelli 3D delle bombe atomiche che hanno colpito Hiroshima e Nagasaki. Quindi vi lasciamo il link del video qui sotto. Tornando a noi, vediamo la differenza tra armi atomiche strategiche e armi atomiche tattiche. E la prima cosa da dire è che in realtà non esiste una vera e propria distinzione tecnica oggettiva e riconosciuta da tutti tra le due tipologie. In generale, e semplificando un po', un'arma nucleare è definita strategica o tattica in base allo scopo per cui è stata prodotta e sarebbe utilizzata. Ecco, questo scopo incide in parte anche sui parametri tecnici. Mi spiego meglio. Le bombe atomiche strategiche solitamente sono testate nucleari con un grado distruttivo molto elevato e che per questo hanno soprattutto una funzione deterrente. Cosa significa deterrente? Che servono come spauracchio. Il fatto stesso che esistano, cioè che uno Stato le possieda, fa sì che un altro paese rivale ci pensi due volte prima di attaccarlo o minacciarlo. Le armi nucleari strategiche, cioè in teoria, sono create per non essere usate. La Russia dovrebbe avere circa 3.000-4.000 testate strategiche, ma a quanto dicono gli analisti militari, circa la metà è di epoca sovietica e quindi non sarebbe pienamente funzionante o immediatamente operativa. Le bombe atomiche tattiche invece hanno un'altra finalità. Ovviamente hanno la stessa funzione deterrente di quelle strategiche, però sono pensate in senso più operativo e quindi quando verrebbero utilizzate? Verrebbero utilizzate direttamente sul campo di battaglia nel corso di una guerra che in quel momento, in un certo luogo specifico, si sta perdendo. Per questo motivo generalmente hanno un potere distruttivo inferiore alle bombe atomiche strategiche, hanno una gittata più corta e sono tendenzialmente più piccole. La Russia è il paese al mondo che possiede più ordigni nucleari tattici. Dovrebbero essere 2.000-3.000, ma non solo. La Russia ne ha più di tutti gli stati della Nato messi insieme. E ora vi chiederete com'è possibile? È possibile perché la Russia ha da sempre paura di essere accerchiata e quindi da decenni immaginava che si sarebbe potuta svolgere una guerra ai suoi confini e si è armata di conseguenza. Ma come funzionano esattamente le bombe atomiche tattiche? Innanzitutto, come ho detto prima, sono mediamente meno potenti delle bombe strategiche, anche se parliamo comunque di roba devastante. Per intenderci, e semplificando di nuovo un pochino, in media le armi nucleari tattiche moderne, quando esplodono, sprigionano un'energia che varia da meno di un kiloton fino a 100-200 kilotoni, mentre le atomiche strategiche possono superare 1000 kilotoni, cioè un megaton. Ora, la bomba atomica che è stata sganciata su Hiroshima ha sprigionato un'energia di 15 kilotoni. 15, ok? Ecco, la bomba di Hiroshima era un'atomica strategica. Oggi 15 kilotoni di solito è l'energia che sprigionerebbe un'atomica tattica, invece. Quindi capite che anche quando si parla di atomiche tattiche, si parla di ordigni incredibilmente distruttivi. La distruzione causata dall'esplosione di un'atomica, che sia strategica e tattica, ovviamente non è l'unica cosa incredibilmente negativa. Ce n'è anche un'altra, ovvero il fatto che ci siano delle radiazioni, che ci sia un fallout radioattivo, quindi la ricaduta di materiale radioattivo. Insomma, l'uso di un'arma atomica tattica durante una guerra non soltanto può distruggere la prima linea dei soldati rivali, ma anche impedire a forze di rinforzo di attraversare quella zona, generando di fatto una sorta di barriera radioattiva per le truppe nemiche. Quindi, per chiudere, quando si utilizza un'arma atomica tattica e in che modo Putin potrebbe utilizzarla al confine con l'Ucraina. Le armi atomiche tattiche possono servire per bloccare l'avanzata di un nemico, per distruggere dei centri logistici o dei bunker fortificati e indistruttibili con dei missili delle armi convenzionali, e possono anche essere usate in caso di clamorosa inferiorità numerica, come sta accadendo un pochino nella parte orientale dell'Ucraina, per evitare di perdere completamente. A quanto pare la Russia potrebbe essere vicina a fare uso di questa atomica tattica, ma speriamo che si tratti solo di minacce. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. L'abbiamo fatto un po' in fretta, quindi speriamo di aver detto tutto il possibile e comunque vi promettiamo che nei prossimi giorni realizzeremo una serie di video che vadano a completare il quadro e possano informarvi il più possibile. In ogni caso, ribadiamolo ancora una volta, il fatto che la Russia possa fare un test nucleare è solamente un'ipotesi. Io vi ringrazio di averci seguito e vi aspetto sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao! Grazie a tutti!